Ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it, nuovo video, nuovo panettone al pistacchio e direttamente da Bronte, ecco quello prodotto dall'Orcam Come sempre partiamo dagli ingredienti innanzitutto troviamo il pistacchio proprio in mezzo all'impasto poi ovviamente questa copertura in cioccolato bianco totalmente ricoperta di farina di pistacchio veramente spettacolare e qualche pistacchio intero incastonato sopra di Bronte veramente stupendi all'interno è farcito ovviamente con la crema di pistacchio l'Orcam nello specifico la versione Luxury Line, quella al 40% una percentuale veramente molto alta tra l'altro realizzata con pistacchio verde di Bronte Dope il loro pistacchio che è uno dei migliori in circolazione panettone da circa un chilo, verdissimo, bellissimo e poi il profumo wow, è veramente fantastico ed ecco qua la nostra fetta di panettone wow, la quantità di crema all'interno è veramente abbondante sia da un lato che dall'altro e ce n'è tanta anche di qua il panettone è veramente ben farcito come vedete la crema ha un colore tenue molto molto naturale, senza coloranti e quindi quello che ormai è un rito andiamo ad assaggiare wow ma vediamo questa copertura totalmente piena di farina di pistacchio l'Orcam ho beccato sotto i denti uno di questi pistacchi interi ed è un'esplosione di gusto di pistacchio di Bronte in fondo quelli di l'Orcam sono veramente tra i migliori pistacchi che ci siano in circolazione e quindi complimenti all'Orcam che ancora una volta ha fatto un prodotto fantastico il voto è questo mi è piaciuto veramente tanto il punto forte è senza alcun dubbio la copertura strapiena della loro farina di pistacchio che si impasta in bocca è veramente fantastico e poi ogni tanto beccate qualche pistacchio intero che si spezza sotto i denti ed esplode di sapore anche la farcitura è fantastica nonché molto abbondante anche se secondo me la loro crema nel panettone non rende al 100% come in altre situazioni e quindi per me è proprio la resa della crema non farla arrivare per pochissimo al quinto pistacchio perché la copertura è veramente da Oscar da 110 e lode altro che 5 pistacchi con questo è tutto vi ricordo che se volete ordinarlo vi basta contattare l'Orcam su Instagram o su Facebook spediscono ovviamente in tutta Italia io vi saluto e ci vediamo al prossimo video